Due camere da letto, bagno, ripostiglio, ampia zona living con una bellissima cucina a vista, un terrazzo abitabile tutto l'anno, garage grande e cantina, il tutto a meno di 200.000 euro. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo, nello specifico in via Bernardi, a 5 minuti dalla piazza, e ci troviamo in una palazzina ad ingresso a solo 4 unità per scala, questo è al piano primo, senza ascensore e con bassissime spese condominali. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!